penso che ci siamo penso che ci siamo buonasera aspettiamo un po che i ritardatari inizino a collegarsi diamo un minuto così intanto condividiamo anche noi questa questa diretta forza forza dobbiamo essere in tanti altrimenti non iniziamo intanto buonasera alza buonasera buonasera angelo buonasera angelo sì stiamo stiamo crescendo stiamo crescendo abbiamo i nostri affezionati amici sì ti conviene chiudere se hai aperto delle cose perché se arrivano delle condivisioni delle notifiche si sente è vero però quelle sono le notifiche di facebook la devo chiudere facebook sul pc come vuoi ecco vedi sono sono le tue condivisioni sono le mie condivisioni quindi la colpa è tua la colpa amici dovete sapere sempre di angeli è vero vedete lui ne sto condividendo tante lui ha 3.000 pagine guarda guarda ancora sono in diretta dappertutto siamo in diretta davvero un po ovunque bene io direi che insomma sono le 21 e 03 se il nostro amico angelo ha finito le sue condivisioni sì possiamo andare anche siamo anche un buon numero diciamo ecco ottimo per iniziare direi allora vediamo un po siamo qui per il nostro secondo appuntamento con la rubrica scrittori da conoscere per conoscere meglio per entrare un po nel nella nel vivo della del laboratorio della scrittura e della lettura nostra di alcuni autori che a nostro parere insindacabile per il momento sono non sconosciuti perché insomma i due autori che finora abbiamo preso in considerazione sono noti agli appassionati di alcuni generi però a nostro parere comunque meno noti e meno letti di quello che meriterebbero stavolta tocca ad angelo proporci uno scrittore da lui scelto che è uno scrittore molto amato che personalmente conosco poco e quindi approfitterò della sua competenza stasera e anche della dell'occasione di rivolgergli qualche domanda e qualche curiosità però prima di tutto io vorrei dargli la la parola per perché ci ci dica di chi di chi si tratta ma soprattutto ci dia un breve ritratto di questo di questo scrittore angelo a te la parola grazie Elsa diciamo che io a me piace farti qualche scherzo sempre eh no 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 dico eh Vassalli non è uno scrittore da conoscere o sconosciuto perché ora mi sono come dire mi ho le mie prove da giudice istruttore eh ho ho raccolto diverse prove che è un grandissimo allora io poi non farò un ritratto perché non ho nemmeno le l'autori l'autorevolezza per farlo racconterò la mia esperienza con Sebastiano Vassalli che per me è il più grande scrittore eh contemporaneo sotto tutti i punti di vista e cercherò di di supportare la mia tesi lo voglio fare eh con due eh prima leggendo un pezzo di di un suo del romanzo che io che io amo che si chiama eh la chimera e e la leggo e poi vi faccio vedere anche purtroppo non ho trovato la foto che cercavo ma qualcosa di simile allora leggo questo brano che per me di 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 cinque righe straordinario per cercare le chiavi del presente per capirlo bisogna uscire dal rumore andare in fondo alla notte o in fondo al nulla magari laggiù un po' a sinistra e un po' oltre il secondo cavalcavia sotto il macigno bianco che oggi non si vede nel villaggio fantasma di Zardino nella storia di Antonia e così ho fatto allora eh Sebastiano Vassalli è questo qui e e e un è un cercatore eh di storie e di raccontatore di storie una bella intervista che potete trovare su fan page lui dice che cerca le grandi storie io non sono assolutamente d'accordo con lui perché secondo me lui è l'autore delle piccole storie delle delle storie voglio dire eh piccole nel senso di che parlano di personaggi di provincia di personaggi eh con tante caratteristiche lui dice che cerca le grandi storie non di quelle di condominio forse diciamo la stessa cosa con termini diversi però lui non è uno scrittore che parla di escatologia che parla di grandi temi è uno scrittore che racconta delle storie di persone Antonia è una strega qui Marco e Mattio sono due protagonisti eh in un altro romanzo e il bellissimo romanzo eh che parla di di Campana ne è un altro esempio ora io vorrei se eh eh la padrona di casa perché tu Elsa sei sempre la padrona di casa me lo consenti condividere due eh eh due cose che eh ritraggono Sebastiano Vassalli eccole qui le troviamo eccole un attimo che le trovo perché le ho non mi ero e onestamente eh ecco eh il bello della diretta chissà dove sono andato a finire eh questa è la mia è il mio eh desktop eh sto cercando perché non le avevo viste eccole qua ma le ritrovo facilmente eh le foto di Sebastiano Vassalli con eccole qua l'ora le trovo perché sta sulla mia sul mio blog a Mantua nel duemilaquattordici quando io ho avuto la fortuna di conoscerlo qui eh parliamo di Rifkin di Magris e e e qui eccolo Sebastiano Vassalli che mi firma un autografo e e questo è Sebastiano Vassalli che prima di presentare il libro io poi c'è una bella foto dove io mi sono fatto un selfie con lui come si fa di solito magari oggi non lo so con qualche cantante con qualche eh ehm che ne so rappresentante della moda qualche io l'ho fatto con Sebastiano Vassalli non l'ho ritrovata questa foto è del settembre duemilaquattordici e questa era un po' la sorpresa che ti volevo fare eh nel senso che ecco ora togliamo la condivisione vero non c'è più Elsa la condivisione non c'è più la condivisione non c'è più la condivisione possiamo chiudere allora Sebastiano Vassalli è un grandissimo cultore della parola lui è stato un un grandissimo protagonista della sperimentazione eh perché nasce anche eh è morto a settantatré anni e però nasce con il gruppo sessantatré che conosci molto bene eh che che era un gruppo di scrittori giovani che volevano eh eh come dire rivoluzionare eh la eh la scrittura eh di questa eh di questo gruppo di neoanguardia eh ci sono due personaggi che io e te credo amiamo entrambi Edoardo Sanguinetti e Luigi Malerba e si è impegnato sin da subito sull'investigazione letteraria di un passato che spiegasse l'inquietudine del presente e ricostruisse il carattere nazionale degli italiani c'è un bel libro io qui ho tutti i suoi libri eh gli italiani sono altri viaggio in undici tappe all'interno del carattere nazionale italiano questo è uno dei dei lavori meglio riusciti perché eh lui non è solo un grande un grande narratore ma è stato un grande personaggio del che si è impegnato anche nella politica e ha prodotto a mio parere e qui ecco l'ulteriore sorpresa che ti faccio perché tu sei una valentissima autrice di romanzi storici allora loro del mondo dell'ottantasette la chimera cuore di pietra pubblicato nel novanta sei e la chimera nel novanta sono a mio parere a mio eh modestissimo parere dei romanzi storici lui ha una bibliografia sterminata eh conclusa con il famosissimo terre selvagge che è proprio un romanzo di confine eh infatti eh quello successivo eh pubblicato posto si chiama il confine eh ambientato in Sud Tirolo allora ehm eh Vassalli è un piemontese eh verace eh novarese eh una persona che ecco a mio parere è io sono un economista del territorio io l'ho definito un uno scrittore dei territori che ha rappresentato che ha raccontato storie fortemente legati al 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 territorio alle storie anche anche minimali però questo non significa che raccontare storie piccole significa di raccontare personaggi piccoli i i personaggi che lui ha raccontato sono straordinari e eh ha attraversato appunto eh come dire io io amo tantissimo la meglio gioventù di eh un film di eh eh di qualche anno fa e e e che racconta una 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 parte dell'Italia io penso che invece eh lui sia eh lo scrittore della meglio gioventù perché non è un film appuntate e i suoi romanzi non sono film appuntate ma affrontano tutti i temi che hanno riguardato la storia dell'Italia e lui racconta se stesso e i suoi luoghi ecco perché è un autore dei territori le sue storie ripercorrono un momento significativo della storia in tutta la storia dal seicento della chimera quindi la caccia alle streghe all'ottocento risorgimentale fino ai tempi a noi più vicini con un ricordo personale del venticinque aprile quarantacinque eh in in cui c'è l'inventore del gorgonzola il bandito caccetta e il don Rodrigo della bassa l'architetto Antonelli il poeta Babbo Matto Campana l'esploratore Ferrandi sono personaggi di un'Italia che eh e eh che 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 ha vissuto la campagna la pianura la montagna e e e e dove come dire eh l'Italia di frontiera l'Italia della della provincia ehm per prima di arrivare eh a concludere lui mh è stato un grande ricercatore eh delle origini del del mondo storico dell'identità più autentica degli italiani Bassalli aveva una grande fiducia nella letteratura che pasolinianamente la utilizzava come strumento per investigare il passato recuperare i frammenti di verità utili a comprendere il presente le parole che ho letto all'inizio di eh della chimera sono un esempio di questa e ora ti svelo anche un altro eh segreto ma tu lo sai perché sei talmente eh eh Bassalli è stato candidato al premio Nobel per la letteratura nel duemila quindici e fu insignito del premio Cambiello postumo alla carriera nel settembre duemila quindici perché ahimè morì qualche mese prima e lui è e e per chiudere eh è stato un personaggio che si laureò con Cesare Musatti dopo essersi misurato con molteplici attività eh nella nella Milano effervescente di quegli anni e e prima di dedicarsi alla scrittura fu bibliotecario in bianchino fattorino supplente eh e e ebbe una vita diciamo abbastanza tra virgolette grigia anche sfortunata anche da un punto di vista personale e e lui dice queste bellissime frasi tratte da appunto da questa intervista che per chiudere eh eh a che ha rilasciato a fanpage una un giornale online mi mi interessano le grandi storie non quelle da condominio le vado a trovare le prendo dove le trovo e e c'è in questa intervista c'è un passaggio bellissimo sull'Europa che è quanto di più attuale in queste ore e dice noi stiamo cercando di dare un'anima all'Europa ma oggi l'Europa non ce l'ha l'anima perché è nata per invasioni l'Europa nasce non per eh comunione di popoli ma per invasione e per addizioni questa eh eh quanto è vera questa roba qui allora eh la prosa di eh di Vassalli è una prosa di una ricchezza unica di una scorrevolezza eh naturalissima eh citando Flaiano lui da un punto ad un punto non utilizza l'arabesco ma utilizza la retta eh eh lui rende ecco io non sono d'accordo con lui perché lui rende eh delle storie piccole le rende grandi eh e eh perché i suoi personaggi sono personaggi vicini a noi che noi sentiamo eh che sono immersi nei paesaggi quasi mitologici eh dell'Italia che che nasce che rinasce e che si ricostruisce e io credo che sia non so se sono riuscito a ad interessare chi ci ascolta perché diciamo l'obiettivo io credo credo di sì credo che la tua prima all'inizio hai detto non voglio fare un ritratto invece dalle dalle tue parole dalle tue letture dalle tue considerazioni emerge un ritratto eh quindi allora io ti parlo come chi eh non non è non ha ancora letto molto di eh di Sebastiano Vassalli tantissimi anni fa ma davvero tanti forse proprio vicino agli anni in cui eh usci eh ho letto La chimera di cui ricordo poco se non che mi piacque e anche mi impressionò eh dato anche l'argomento adesso in occasione di questa per questa occasione ho iniziato a leggere un libro che eh avevo in in biblioteca ehm che non avevo ancora letto e che stranamente leggendo poi così tanti ritratti tante eh descrizioni interviste vedo che è molto poco nominato e che è eh l'infinito un infinito numero straordinario che a me eh ha interessato molto l'ho iniziato a leggere e veramente mi sta prendendo davvero bellissimo perché perché è ambientato nell'antica Roma e in particolare ha come protagonisti Virgilio e Mecenate che che compiono un viaggio in Etruria quindi diciamo è l'ambientazione una la quella che che prediligo e quindi mi ci sto immergendo e davvero devo dire che eh penso che poi rileggerò sia la la chimera che poi quest'altro libro che mi ritrovo in eh in libreria che è la notte della cometa a proposito della notte della cometa che eh se non sbaglio è del degli anni ottanta non so 84-87 se non sbaglio mi pare forse dell'ottantasette ehm volevo eh proporti una domanda fatta da una nostra ascoltatrice perché io vedo anche i commenti qui che è la nostra amica Patrizia Patrizia Tocci ed è una domanda sua che faccio anche mia perché naturalmente eh sentendo il titolo del romanzo che parla di Antonia di Antonia bruciata come strega ehm nel 1600 il titolo La chimera neanche a farlo apposta è il titolo di una delle più famose poesie di Dino Campana invece è il protagonista della notte della cometa che cronologicamente precede di diversi anni la chimera ora non so se tu eh sai rispondere a questa domanda è una coincidenza questo titolo che richiama il protagonista di un romanzo precedente che poi è un romanzo che è anche una sorta di autobiografia di Dino Campana un poeta che a Vassalli era era molto caro no no non credo ci sia a me a me a mia memoria non c'è non c'è nessuna nessun collegamento come dicevi tu la notte della cometa dell'ottantaquattro e il ehm diciamo del io non ho non ho elementi di questa ehm diciamo di eh io ti posso solo dire che consiglio a tutti eh eh il se uno deve iniziare per conoscere Vassalli eh gli suggerirei proprio la la notte della cometa perché lì c'è tutta la cifra di Vassalli è una una come hai detto giustamente tu una specie di autobiografia romanzata che però eh è come ecco come non l'ho citato come romanzo storico ma forse lo è perché lì come hai fatto benissimo tu ti posso fare uno spot non ci siamo messi d'accordo cioè io sto leggendo aspetto sto leggendo perché è una bravissima scrittice di romanzi storici anzi eh li propongo di scrivere da oggi in poi solo romanzi storici perché il suo romanzo italico mi sta piacendo tanto lo stai leggendo adesso sì lo sto leggendo ma io sono un allievo di Pennac che i libri li leggo quando c'ho voglia quelle quindi da e lo sto leggendo a pezzi perché ho l'abitudine di leggere quattro cinque libri contemporaneamente però mi piace e tu sei molto simile a Vassalli ma ti rendi conto che complimenti che ti sto facendo perché mischi eh in una in un cocktail molto eh in un Bloody Mary che il mio cocktail preferito eh eh le 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 informazioni storiche con il con l'immaginazione con l'invenzione degli autori e in eh la eh notte della cometa c'è esattamente questo se poi uno è un po' deviato dal 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 mio punto di vista si va a leggere per Vassalli si va a leggere un'autobiografia di Dino Campana fa bingo fa strike perché capisci che veramente lì c'è una un pezzo di di eh di ricerca storica e un pezzo di fantasia e viene fuori un mix e bellissimo se poi uno vuole dire io c'ho poco tempo perché eh non perdo tempo leggete la chimera perché la chimera è il romanzo rappresentativo dello stile di Vassalli eh io poi eh li amo tutti li ho letti tutti eh c'è una eh poi anche eh vi faccio vedere questa raccolta di racconti che perché lui non è non scrive molti racconti ma la morte di Marx ed altri racconti eh oppure eh questo romanzo sempre di provincia la eh io partenope eh in cui eh è l'ultima tappa perché vedete quanto è bella sta perdonatemi io mi emoziono ma sono fatto così qui si dice io parteno per l'ultima tappa di un viaggio che mi ha portato a vedere il mio paese dalla parte delle radici ho raccontato l'Italia cioè eh ecco perché prima citavo eh la meglio gioventù nel senso che un racconto di una generazione questo è il racconto di un paese e che dire io sono logorroico contrariamente a te eh eh dico a a Patrizia che non ho elementi per dire per dire questo ma sicuramente qualcosa ci sarà ci sarà anche se eh voglio dire la chimera è il racconto di un sogno di una ragazza cioè è un io lo consiglierei all'otto marzo perché è veramente una celebrazione della donna eh mi sto avventurando in un in un terreno molto minato eh sto facendo il critico letterario non ha nessune competenze eh voglio dire però è un romanzo femminista è un romanzo che che descrive il sogno di una donna di una ragazza di una giovane di provincia che cerca di emanciparsi di andare dietro all'amore andare dietro alle passioni e che viene considerato una strega ecco perché la chimera la perché questa povera ragazza va alla ricerca di una cosa che non troverà mai anzi troverà eh tutt'altro ma non svegliamo il eh la conclusione del personale del romanzo ma tra l'altro io credo che inconsciamente comunque questo titolo la chimera eh nella mente di Vassalli eh sarà stato anche un po' influenzato dalla dalla figura di Dino Campana perché effettivamente come sottolinea Patrizia eh quella poesia è la più celebre la più significativa e poi comunque la chimera come mostro mitologico può assumere tanti sensi tanti significati per cui si presta anche come come titolo tra l'altro è meraviglioso è bellissimo ed è questa è una è una cosa che invidio molto a Vassalli perché anche la notte della cometa anche un infinito numero cioè capace davvero di trovare dei titoli estremamente suggestivi ed evocativi e anche questa è una capacità poi magari i titoli li ha trovati l'editore lui ne aveva scelti altri questo non lo possiamo sapere però sono titoli davvero molto molto azzeccati tra l'altro all'inizio di questo romanzo che sto leggendo un infinito numero è una sorta di introduzione dello stesso Vassalli dove lui è che è un po' visionaria cioè lui immagina di stare in un giardino eh dove passeggiano tante figure eh vestite con abiti di epoche diverse perché non sono altro che i personaggi delle sue storie che hanno preso vita e dialogano con lui ricorda un po' ovviamente eh semplicemente come idea del personaggio che assume vita propria i sei personaggi in cerca d'autore di di pirandello ho trovato questa invenzione particolarmente eh riuscita ehm e intrigante e uno di questi personaggi appunto il protagonista poi eh della di questo romanzo questo ottimo demo che è eh la il segretario di appunto di di Virgilio uno schiavo eh che viene però eh sì sì bravissima Elsa cioè nel senso hai colto un aspetto ma lui è un è un autore straordinario tu hai parlato e mi hai fatto bene hai invaso un po' il mio campo perché dovevo parlare meglio di l'altra volta tu hai invaso il mio tante volte no non è vero non l'ho invaso contesto eh no vabbè vabbè ti perdono perché ti voglio bene però voglio dire eh la prossima volta quando parlerai del tuo autore mi preparo e e no voglio dire a parte le battute ne facciamo così per divertirci un po' ma lui è un autore straordinario eh eh Stella avvelenata che questo libro io parlo eh parla di anno millenove quattrocento quarantuno Leonardo Sacco giovane chiarico di Casale diretto a Parigi per studiare cambi itinerari e decide di imbarcarsi su una grande nave insieme con uno strano equipaggio la scoperta dell'America prima di eh di Cristoforo Colombo un romanzo godibilissimo bellissimo qui eh Paolo Di Stefano del Corriere della Sera dice nella quarta di copertina che uno dei più bei romanzi di Vassalli quindi immaginate questo qui che sbaglia e scopre l'America prima di di Colombo e scopre il libero amore eh e tutta una serie di cose e oppure archeologia del presente in cui parla del sessantotto cioè eh c'è questa bellissima edizione di eh di Einaudi dove c'è Charlot Charlie Chaplin e e praticamente vi leggo questa nota sempre di Paolo Di Stefano che è un un grandissimo critico letterario giornalista a mezzanotte di ieri è finito un secolo in quel secolo nella vita di chi oggi si sta avviando a diventare vecchio c'è un anno particolare il sessantotto che durò cioè praticamente lui fa la fine di un secolo e il sessantotto vedete quante belle quante quante cose ma ne potrei avere ne potrei dire tanti altri è un autore da da leggere da studiare però e non è un autore e e lui secondo me ehm e c'è una tua allieva grazie prof a domani mettili un buon voto perché ti ha seguito non so chi sia non credo che si rivolga a me io non sono no no ma a me no tu non devi non è un mio non è un mio alunno eh si chiama Stefano Salomone e ma a me cioè io sono chiamata prof anche diciamo come come titolo semplicemente anche da 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 coloro che non sono miei allievi e praticamente no dicevo che è un autore così denso però ha una prosa assolutamente eh lineare godibile cioè praticamente lì eh eh si vedono secondo me eh i retaggi del del gruppo sessantatré che destrutturava il linguaggio ma eh era contro appunto quelle le artefazioni del linguaggio bizantino e compagnia bella e e è veramente una ricerca della parola molto attenta ma mai complicata mai eh come dire quindi eh la bellezza del eh dello scrivere non è tanto nella costruzione arzigogolato attenta ma nella scelta delle parole e quindi anche a un autore a un uno scrittore a un lettore magari un po' come dire che non ama molto i periodi lunghi eh le e è assolutamente un autore eh godibilissimo eh da questo punto tra l'altro non so se sei d'accordo io ho letto preparandomi per questa puntata che appunto dopo la fase giovanile un po' vicina alle avanguardie in particolare al gruppo sessantatré eh diciamo dagli anni ottanta è tornato anche ad un modo di narrare più come dire tra virgolette tradizionale ma semplicemente nel senso di un modo di narrare disteso eh diciamo senza quelle quelle eh fughe in avanti dell'avanguardia che eh possono ovviamente molto spesso sono incomprese dall'opinione pubblica e dal vasto pubblico invece mi sembra da quelle poche letture che finora ho fatto ma che ho intenzione di proseguire e di intensificare Vassalli sia uno scrittore eh diciamo che che davvero è leggibile nel senso che non è come tu stavi sottolineando complicato anzi ha una scrittura davvero bellissima e qui il culto della parola eh lo si lo si lo si nota la cura ecco nella scena la cura assolutamente sì sì però guarda eh io eh tu naturalmente eh hai detto che ami poco Joyce quel Joyce eh io dico ti voglio dire una cosa rivoluzionaria magari mi sto prendendo troppo troppe libertà però io credo che sia più facile scrivere complicato che fa che più che 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 scrivere semplice cioè curare la parola curare lo scrivere ma tu sei una scrittrice quindi eh potrai eh è più facile eh scrivere appunto utilizzare un linguaggio che 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 essere attraenti che essere interessanti come lingua come prosa e scegliere le parole giuste e essere lineari e godibili nella lettura lo dice uno che ama anche scrittori che che fanno come direbbe eh Flaiano l'arabesco no per unire due punti no? Eh però eh io io per me è straordinario io sono come dire ho provato una gioia infinita nel duela quattordici ad incontrarlo eh un personaggio assolutamente di un fascino eh e non so chi sia come sono come sono d'accordo Angelo la semplicità è un punto di arrivo ed è difficile hai visto c'ho anche delle delle famiglie di chi sono perché non leggo qui dal devo leggere eh Patrizia allora ci dobbiamo incontrare Patrizia dobbiamo perché tutti questi complimenti va bene assolutamente invitiamo invitiamo a partecipare a qualche nostra sì sì la invitiamo il terzo incomodo facciamo Susu dai senti va bene ehm eh hai qualche altra curiosità leggo qualcosa e se noi chiudiamo siamo a mezz'ora penso che che allora no ehm effettivamente no volevo semplicemente sottolineare quello quello che stavi che stavi dicendo e che anche ha detto Patrizia cioè la semplicità è un punto d'arrivo ma è la semplicità dietro la quale si intuisce lo spessore si intuisce la profondità per cui la semplicità appunto è un è un punto di arrivo e non semplicemente non significa la povertà di argomenti o o di linguaggio per cui è sempre eh diciamo il risultato più più difficile cioè la semplicità che è una semplicità solo apparente e che invece nasconde uno studio un impegno ed una ed una anche la fatica di eh di arrivarci perché è molto più facile scrivere in maniera ingarbugliata e complicata e complicata e infatti chi scrive sa che il momento più anche doloroso è quello del del di di quando bisogna sfrondare no la prima stesura è sempre molto più abbondante fluviale e anche eh complicata dal punto di vista linguistico e però poi ci si accorge che molto è superfluo e quindi in questo in questa progressiva scarnificazione e semplificazione c'è eh molta molta anche molta fatica e molto rammarico nel dover togliere qualcosa a cui magari si è affezionati eh che di che però ci si rende conto eh sia eh possa essere pesante per chi legge insomma non è assolutamente semplice per cui appunto Sebastiano Vassali una cosa che io ammiro molto di lui è questo fatto di essere riuscito a scrivere romanzi storici ambientati nelle epoche più disparate esatto esatto 500 600 700 Marco e Mattio 800 e 900 cioè sembra che è duemila anni fa come un infinito numero e all'epoca di 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 Augusto quindi effettivamente dietro questa sua scrittura ci doveva stare una una uno studio continuo e indefesso perdonatemi il termine guarda io ti voglio per per deliziare speriamo eh non con la mia voce ma con lo scritto di Vassali volevo leggere volevo leggere tre cose velocissime belle secondo me perché eh tu sei sei una secchiona quindi anch'io ho dovuto studiare per non fare brutta figura perché se no mi fai fare sempre brutte figure e volevo leggere questo pezzo eh di Marco e Mattio e poi e poi due sobrano di dieci righe di Marco e Mattio che è anche uno dei più belli e e poi due due definizioni della letteratura che 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 contenuti in alcuni libri questo pezzo di eh Marco e allora eh Marco e Mattio è la storia di due amici diversi tra di loro eh che finiscono eh con delle storie completamente diverse anche che finiscono anche male qualcuno di loro eh sarà eh andatelo a leggere Mattio vi leggo questa bellissima questo bellissimo pezzo secondo me Mattio credeva di dover salvare il mondo e morì per salvarlo lo salvò chissà il senso pratico il buonsenso a cui la maggior parte delle persone crede di ispirare le proprie azioni ci induce a sorridere di una simile ipotesi ma nel mondo governato dal buonsenso per nostra fortuna di tanto in tanto affiorano degli uomini che ci passano vicino e che poi scompaiono portandosi a presso universi di domande a cui sarebbe troppo facile o troppo stupido rispondere cioè qui è contenuto va bene non 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 devo commentare perché la frase è talmente bella che non merita di essere commentata se mi consenti chiudo con due eh citazioni di eh cioè con due definizioni della lettura uno tratto da infinito numero con la lettura dice il protagonista mi abituai a guardare il mondo con cento occhi anziché con i miei due soli e a sentire nella mia testa cento pensieri diversi anziché il mio solo pensiero non lo so cosa c'è di più e poi eh la quarta la quarta di copertina di io parteno perché è un romanzo eh molto è uno degli ultimi e vincitore del premio fondazione campiello eh che ha vinto postumo eh e dice nella quarta di copertina nel tempo della letteratura tutto è possibile persino incontrarsi scavalcando i secoli nell'eterno presente delle vicende umane qui credo che ci sia anche vico ci sia un sacco di roba in queste tre righe ma assolutamente le voglio direggere permettimelo perché voglio dire nel tempo della letteratura tutto è possibile persino incontrarsi scavalcando i secoli nell'eterno presente delle vicende umane cioè lo scrittore può fa tutto capito come diceva come diceva Pessoa diciamo anche il poeta un fingitore quindi è anche lo scrittore lo è che poi io ehm scorgo sempre eh adesso approfondendo la lettura devo vedere se questa mia eh sensazione è giustificata o meno perché ho letto troppo poco per per dirlo in maniera sicura eh dietro le vicende che lui racconta eh scorgo sempre un un tono come dire un lontano tono malinconico quasi veramente nostalgico di rimpianto non so se è una sua cifra distintiva chiedo a te che hai letto molto molto di più eh di la sala. Sì sì lui è una è un personaggio come ti dicevo ehm malinconico da questo punto di vista infatti le sue storie sono sono storie quasi tutte eh o tragiche o o o o tragicomiche eh da questo da questo punto di vista eh e probabilmente io io l'ho sempre interpretato perché l'approccio che lui ha aveva nella vita anche nella ricerca delle storie eh però ehm è anche molto brillante anche se nel quadro generale appunto eh prevale la il tragico alla. E poi anche dal punto di vista come dire dell'immagine no? Eh lui ha questi baffoni enormi fontissimi che lo contraddistinguono e lo rendono inconfondibile davvero. Esatto. Anche questo è una su un suo vezzo in un certo in un certo senso. Ho visto delle foto giovanili da ragazzo e senza baffi è irriconoscibile. Purtroppo c'è ci ha abbandonato troppo presto perché morire a 73 anni è una grande perdita però ecco bene diciamo c'è un sacco di roba. Ha scritto tanta roba che quindi speriamo di aver interessato almeno un lettore ecco. Speriamo dai ma credo possiamo lanciare possiamo lanciare anche un feedback magari sotto le nostre dirette eh quante persone avete interessato oppure No no può essere pericoloso. Eh che ce ne frega. Potremmo affinare delle critiche. Sei coraggioso. Eh va bene. Va bene già delle 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 qui ci abbiamo delle persone che ci che ci vogliono bene quindi vedo molti commenti positivi quindi. Certo. No ma poi volevo ho capito adesso che quel eh quell'amico che mi ha mi ha salutato dando mio appuntamento a domani per cui tu giustamente hai detto un alunno non essendo un alunno mi ha dato appuntamento a San Vito domani pomeriggio scusate se faccio questa alla presentazione del mio del mio libro l'ho capito adesso meglio tardi che mai. Io può darsi che vengo ti faccio una sorpresa vabbè se te lo dico perché io vado no dai faccio fin di non aver sentito. Sono da quelle parti torno da Vastomo vediamo se mi riesco. Eh allora ti devi assolutamente fermare perché non puoi non puoi fare a meno. Va bene. Devi venire a punzecchiarmi anche là se no io mi annoio. Esatto esatto. Allora amici eh il nostro appuntamento per la prossima rubrica speriamo davvero che qualcuno eh abbia così concepito il desiderio di leggere di iniziare a leggere i romanzi di Sebastiano Vassalli come me che dopo aver sentito Angelo mi sono ancora di più eh decisa no in questo mio proposito di approfondirlo e dopo un infinito numero leggerò La notte della cometa e poi credo di eh che rileggerò La chimera perché sono passati troppi anni e ci sono dei libri che vanno riletti i libri più grandi vanno riletti perché nelle diverse età si percepiscono e si intendono. Ti posso interrompere? Siccome io no no volevo dire possiamo dire che eh boicottare Dostoievski è una stupidaggine? Allora per favore io sono arrabbiatissima. Esatto perché siccome sono i nostri autori eh di di il nostro autore di riferimento ma come si fa? No no ma è una ma è semplicemente eh estremamente stupido. Stupido e idiota per citare il titolo. Buon capolavoro di Dostoievski. Semplicemente qualcosa di eh infatti sono tornati subito sui loro passi ma ormai la figuraccia atroce ormai era era stata fatta. Quanto di più non lo so stolto e misero dal punto di vista umano e culturale si possa pensare. Cioè boicottare è come se non si leggessero più i grandi tedeschi perché c'è stato Hitler in no ma vabbè è incommentabile guarda veramente incommentabile. Speriamo solo che questa sciagurata guerra finisca prima possibile perché noi stasera abbiamo scherzato stiamo andando avanti però in fondo a ognuno di noi c'è questo grumo di inquietudine di paura di di sofferenza eh speriamo davvero che che possa finire presto solo questo. Vabbè Angelo eh faremo sapere io ho qualche idea per il per il primo giovedì del mese. Tu sarai la relatrice io sono che noi abbiamo detto che c'è un relatore una corre come nelle tesi di laurea quindi oggi l'autore l'ho scelto io lei mi ha un po' punzecchiato. E non sai cosa ti aspetta per il mese di aprile non lo sai. Va bene. Lo voglio dire. Lo sveleremo. A metà di aprile faremo un altro incontro. No il primo giovedì abbiamo detto il primo giovedì. Ah il primo giovedì va bene. Non so ancora mai la tradizione già consolidata. Grazie a tutti. Angelo grazie e complimenti. No figura di più. Buona serata a tutti. Ciao alla prossima. Alla prossima.